È l'ultimo giorno, anzi ormai è terminato il 44esimo congresso di Bari e siamo veramente contenti dei risultati ottenuti. Abbiamo avuto un notevole numero di partecipanti, quasi 1.200 sono stati iscritti, 60 espositori e devo dire che per quanto riguarda le relazioni abbiamo avuto non solo nella prima giornata, nella seconda e nella giornata di questa mattina, nel mercoledì mattina abbiamo avuto delle relazioni che hanno suscitato un vivo interesse nei partecipanti. C'era un grande, soprattutto nella prima giornata, la sala plenaria era stracolma di iscritti al congresso e che hanno apprezzato soprattutto la qualità degli interventi. Si è parlato di dolore, si è parlato di vari aspetti del dolore, dolore disabilitante, quindi dal punto di vista della medicina traslazionale, della scienza, dello stato dell'arte, della farmacogenomica, della genomica e della clinica. Poi si sono visti gli aspetti multidimensionali, dalla scala di valutazione, dagli aspetti formali, anche dal trattamento farmacologico e delle metodiche non ovviamente farmacologiche, come anche un spazio che è stato riservato anche alle medicine complementari. Comunque nella seconda giornata c'è stato anche un impegno dei relatori a focalizzare il contenuto del loro discorso sulle problematiche più importanti che riguardano i percorsi diagnostici terapeutici, assistenziali, il percorso diagnostico unico, riabilitativo. Si è parlato e si è discusso anche in presenza di altre associazioni, delle altre associazioni scientifiche, delle istituzioni, degli esponenti del terzo settore. Si è parlato di reti, della rete riabilitativa, si è parlato di medicina pubblica, ossia di riabilitazione pubblica, riabilitazione privata e nel pomeriggio di ieri e nella mattina di oggi si è parlato ovviamente delle grandi evoluzioni tecnologiche, dalla body machine surface anche alle altre tecnologie che sono state messe in evidenza e soprattutto alle evidenze scientifiche in ambito di medicina riabilitativa che riguardano l'uso della robotica, l'uso dell'alta tecnologia. La revisione Cochrane, la revisione della letteratura, l'evidenza scientifica per quanto riguarda alcune tecniche innovative e tecnologicamente avanzate sono state riportate in una relazione che ha ovviamente destato l'interesse di tutti i partecipanti. Concludo con l'augurio che questo congresso, 44esimo congresso, vedete la giornata di oggi, qua si sta a testimoniare come ci sia a Bari un certo dispiacere a chiudere questo congresso così improvvisamente. Siamo stati accolti dal sole e adesso ce ne andiamo con le nubi e soprattutto con la nebbia di stamattina. Io auguro veramente che tutta questa partecipazione, tutto questo successo, se permettete, che è dovuto anche alla partecipazione all'ufficio di presidenza del gruppo regionale pugliese, sia il punto di partenza per poi avere a Genova un congresso migliore. Io do veramente tanti auguri ai colleghi di Genova, a tutto il gruppo della Liguria che ovviamente possa organizzare un congresso anche migliore di questo.